Mastic Amaro il Francavilla contro il Cesena Battistrada del Girone gioca alla pari ma viene punito da un episodio, un incontro altrimenti incanalato sull'1-1. Primo tempo di marca ospite non solo per il vantaggio di Ricciardo, sempre più bomber con i suoi 15 gol, ma anche per avere controllato il gioco. Nella ripresa però i giallorossi, qui in completo bianco, giocano più sciolti, riuscendo a pareggiare con un gran gol di Dos Santos per il resto della gara un po' in ombra. Quindi la squadra di Rachini prende in mano il pallino del gioco commettendo anche paura al Cesena, premiato nel finale dal jolly di Valeri che su punizione sorprende un incerto spacca. Assenze su entrambi i fronti, giallorossi senza l'infortunato Banegas e lo squalificato Nazari, oltre al lungo degente Palumbo. Nel Cesena, seguito al Valle Anzuca da 400 tifosi, il tecnico Angelini deve rinunciare a Benassi e fortunato ex Pineto. Le fasi salienti del match nelle immagini di Diego Martelli. Il primo squillo è del Villa con Mancini che conquista un pallone sulla tre quarti e lascia a partire una conclusione potente ma di poco alta. Al sedicesimo gli ospiti colpiscono. Bella azione finalizzata in rete da Ricciardo che sfrutta un cross assist di Alessandro. La reazione del Villa non tarda ad arrivare. Ventiquattresimo incursione in area di Montagnoli che conclude due volte ma viene murato dalla difesa romagnola. Cesena pericoloso poco prima della mezz'ora, conclusione dal limite di campagna. Spacca non trattiene, arriva Alessandro che prova a ribadire ma all'estremo giallorosso si oppone. Nel finale di tempo occasione del Francavilla, attraversone di Samuel Di Renzo e tentativo in acrobazia di Mancini. Ripresa la squadra di Rachini parte subito forte al nono pareggia. Dos Santos si fa trovare pronto alla deviazione aerea su traversone di milizia per il bomber brasiliano e il quinto centro stagionale con la maglia giallorossa. Il gol incassato spaventa un po' il Cesena mentre il Villa ritrova forza e prende in mano il controllo del match anche se per incidere manca il passaggio decisivo. Il Cesena si fa vedere pericolosamente con Tortori. Spacca è superato ma nei pressi della linea salva Samuel Di Renzo che anticipa il libero Alessandro. Al 34esimo Dos Santos approfitta di un errore in fase di alleggerimento di Tola. Il tiro però viene deviato in angolo da un difensore del Cesena. A sede al termine l'episodio favorevole agli ospiti rinvio sbilenco di Spacca. Difesa del Villa costretta a commettere fallo. Sul pallone va Valeri, il difensore che nel finale del primo tempo ha rischiato grosso per un buffetto di ripicca sanzionato dall'arbitro con il giallo. Il numero 3 del Cesena calcia un pallone angolato ma non certo irresistibile che beffa Spacca forse coperto dalla folta barriera. È la rete decisiva che consente alla capolista di tenere a distanza il Matelica. Dall'altra parte c'è tanta amarezza con la zona playoff ora distante due punti ma il campionato è ancora lungo. Qual è la lezione da imparare da questa disattenzione a questi errori? Purtroppo sono errori individuali che nel calcio ci sono e ci saranno sempre. Purtroppo le partite sono tutte equilibrate e a volte si perde per queste piccole cose. Basta spegnere l'interruttore per due secondi e si rischia di compromettere quello che di buono abbiamo fatto sul campo. Proviamo a guardare avanti a questa trasferta in Molise contro l'Agnonese. Partite facili in queste categorie non ce ne sono quindi da martedì ancora più incazzati perché sinceramente dobbiamo essere arrabbiati dopo questa sconfitta. Le difficoltà in questo campionato ci sono, non è che giochiamo contro squadre che sono nettamente più scarse di noi, anzi sono tutte squadre attrezzate, tutte squadre organizzate, squadre che hanno speso forse anche più di noi e quindi le partite sono tutte da giocare, da interpretare e possibilmente da vincere. È un grande peccato perché comunque ci credevamo, a prescindere del Cesena, adesso la squadra è in grande forma, stavamo giocando bene, oggi abbiamo ridimostrato un'altra volta che possiamo giocarcela con tutti e tutte le squadre che affrontiamo. Adesso pensiamo alla prossima partita, questa la cancelliamo e andiamo avanti, prendiamo quello che di buono è arrivato da questa partita, ossia la prestazione.